E' stato presentato questa mattina a Pescara nella sede del Consiglio regionale il Patto per le Donne, un documento che su iniziativa della Commissione regionale per le pari opportunità si pone l'obiettivo di contribuire a superare le criticità producendo nuove soluzioni e valorizzando le buone pratiche esistenti attraverso la creazione di una nuova rete comunitaria mutualistica e solidale in grado di accogliere le istanze concrete delle donne. All'incontro hanno partecipato le rappresentanti di associazioni e organismi che hanno dato il loro contributo alla stesura del documento, oltre ai quattro candidati alla presidenza della Regione Abruzzo, Giovanni Legnini, Marco Marsilio, Stefano Flaiani e Sara Marcozzi, che hanno voluto sottoscrivere il Patto per le Donne. Ancora una volta siamo state concrete nell'esporre quanto chiediamo alla politica. abbiamo inteso fare questo patto che abbiamo chiamato il Patto per le Donne, mutuandolo da un patto per le Donne che è il patto messo in campo dagli stati generali delle donne e diciamo che siamo scesi un po' nel particolare e abbiamo manifestato quali sono le necessità perché la società abruzzese diventi una società più acqua e più giusta attraverso delle politiche di genere. Abbiamo capito da questo incontro oggi che la doppia preferenza di genere non è compresa dal punto di vista della razio, perché si parla dell'accoppiata, cosa che non ci piace, né viene pubblicizzata la tecnica con la quale bisogna votare per non incorrere nell'annullamento della seconda preferenza. Noi facciamo un appello a votare le persone che valgono e siccome siamo convinti che tante donne valgono, per argomento conseguenziale noi chiediamo che le donne che valgono vengano votate.